buongiorno ragazzi avete passato un buon Natale un buon Santo Stefano iscrizione se volete sostenere questo canale io vi ricordo che potete farlo tranquillamente gratis iscrivendovi al canale basta un semplice click e attivare la campanellina allora stamattina il giornale anche al giornale noi degli esonerati diciamo buongiorno il giornale l'Ittera ha bruciato il patrimonio solo la cessione di Brosovic e Onana hanno consentito la continuità aziendale per il duemilaventitré ventiquattro la situazione non è seria scrive il giornale ma è grave se per non dire gravissima fortunatamente chi segue questo canale già era già preparato da molti mesi quindi il giornale però tralascia scrive di ottocento milioni di debiti tralascia i duecentoquaranta milioni di perdite rinviate eh quindi sono circa più di un miliardo di debiti ve l'abbiamo detto migliaia di volte scrivono che urge una ricapitalizzazione conferimento di capitale no l'inter a livello economico è messa veramente male ma questo ormai voi lo sapete lo leggete negli ultimi mesi ma lo sapevate da più di un anno voi seguite il canale ragazzi poi io ritorno a dirvi che per me andando sul lato prettamente calcistico l'urgenza che ha l'inter cioè un colpo di tacco di Arnautovic non cancella comunque una prestazione in colore per un attaccante perché l'attaccante è un mestiere difficile gli attaccanti vengono pagati tanto perché il signor Arnautovic sul signor Arnautovic è stato fatto un investimento importante sia in termini eh economici perché l'inter addirittura ha sacrificato Fabian per prendere Arnautovic al giocatore è stato sottoscritto un contratto di tre milioni e mezzo quindi l'inter ha fatto un investimento a mio avviso assurdo su un giocatore di trentacinque anni ha fatto un bellissimo gesto tecnico ma lo abbiamo sempre detto io l'ho sempre riconosciuto che a livello tecnico il calciatore è forte ma anch'io sono forte a livello tecnico a più di quarant'anni il problema è che l'attaccante deve buttare la palla dentro servono i gol ora quella partita l'inter l'ha stradominata e avvito ha durato un po' di fatia ma l'ha stradominata se quella partita finisce zero a zero Arnautovic eh e se magari finisce due a uno per il Lecce quel tacco non vale più nulla vale perché la partita è andata bene cioè l'attaccante deve fare gol quindi l'urgenza per questa squadra è un attaccante Buccanan è un investimento Giuse perché Danfris lo vogliono vendere io ti parlo di ora dell'urgenza che abbiamo ora l'urgenza che abbiamo ora è quella dell'attaccante e te lo ripeto se arriva Buccanan ora arriva Buccanan perché non lo paghi lo scrivono ovunque operazione alla Gosenz ecco perché arriva Buccanan quindi qualora arrivasse Buccanan non arrivasse una punta per l'ennesima volta purtroppo e bisogna dirle queste cose senza mettere la polvere sotto il tappeto non hai agito per urgenza ma hai agito in base a quello che potevi fare ovvero sia prendere un giocatore e non pagarlo e pagarlo più in là come stiamo facendo con tutti i giocatori che abbiamo preso tranne Pavard io questo ragazzo l'ho visto giocare un po' al mondiale ma devo essere sincero non è che mi abbia impressionato più di tanto non lo conosco bene quindi non lo posso giudicare a fondo però siccome me lo state chiedendo i tanti Giuse cosa ne pensi di Buccanan cosa ne pensi di Buccanan cosa ne pensi di Buccanan ne parlavo stamattina anche con Michele eh che saluto della Chattery che sono generati Buccanan ragazzi è un ragazzo che ha non ha mai giocato in un campionato performante dal dal punto di vista tattico perché il campionato belga fa ridere guardiamoci chiaro chi derino quello del Milan sembrava cacca è arrivato in Italia non ha visto palla di là era un fenomeno quindi il campionato belga paragonato a al 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 campionato italiano cioè stiamo parlando di due pianeti soprattutto a livello tattico totalmente diverso poi questo ragazzo è un esterno allora è risultato troppo offensivo quando giocava esterno basso quando ha giocato terzino ed è risultato troppo offensivo ha fatto l'esterno alto ed è risultato poco offensivo capisci lascia perdere cinquanta partite cinque gol che sono dei numeri numeri da difensore in termini realizzativi te mi dici gli assist sì ma anche gli assist non è che ne abbia fatti a Caterby li ha fatti ma ancora un giocatore acerbo su cui devi lavorare l'investimento sicuramente è buono non ti sto dicendo quello però in linea teoria capito potrebbe fare potrebbe fare bene si potrebbe integrare ma è un ragazzo che ha bisogno di tempo ti faccio un esempio Bellanova viene dal Cagliari Bellanova risultò al Cagliari uno dei migliori esterni del campionato viene all'inter dura fatica soprattutto nella fase difensiva se vi ricordate perché Bellanova era è un cavallo molto bravo nella fase offensiva i primi frutti della fase difensiva di Bellanova li hai visti ad aprile capisci che ti voglio dire e questo su cui bisogna eh bisogna ricordare cioè la posizione difensiva in quel ruolo lì è importante e Buccanan non ce l'ha risultato troppo offensivo quando ha giocato terzino basso e poco offensivo quando ha giocato alto cioè quindi lo devi prendere ci devi lavorare ci devi investire tempo cioè è una sarebbe stato un acquisto da fare a giugno oppure lo prendi ora e comincia a lavorarci più là con calma perché ad oggi secondo me non serve quasi a nulla serve a poco se non a far rifiatare qualcuno ecco perché ti dico se non arriva la punta io non lo so se arriva oppure no la punta perché io faccio calciomercato lo sapete se non arriva la punta questo vuol dire che prima del cambio della proprietà è l'ennesimo acquisto fatto perché non pagavi nulla per quello ti dico ok investimento ripeto che è giusto farlo soprattutto se se te lo danno a sette otto milioni non lo paghi nemmeno subito ma certo lo prendi e lo tieni lì con calma e comincia a lavorarci e ogni tanto lo butti dentro senza tanta pressione e buona lì capito però a noi serve un attaccante e Taremi a me non piace sento ancora parlare di Taremi Taremi Coppa d'Asia o non Coppa d'Asia a me non piace Taremi un giocatore che ha avuto due anni buoni in un campionato anche lì dove Jackson Martinez dove Hulk e dove Quaresma dove i giocatori erano dei fuori classe sono usciti da lì non hanno toccato palla di cosa stai ragionando di cosa ragioni vorrei aprire io non è detto che eschiano da lì e fanno schifo ma è molto probabile però perché quelli sono campionati da pensionati in Italia è diverso è vero che il calcio italiano a livello qualitativo si è abbassato di molto ma siamo sempre superiori a tanti altri campionati di cosa ragioni lasciatelo lì Taremi prendiamo un altro non mi piace Taremi te lo dico da un anno lascialo perdere quello lì quello è il Diego Costa del discount lascialo stare lì poi se te mi dici Giuse tra Arnatovic e Sanchez arriva Taremi almeno a livello fisico e a 30 o 31 32 anni quant'anni ha Taremi ma almeno a livello fisico e integro sì quello sono d'accordo ma è come se tu mi dicessi Giuse tra uno schiaffo e una pedata cosa preferisci lo so che è difficile muoversi senza soldi e deve finire questa storia perché senza soldi non puoi tenere una squadra di caccia non puoi accumulare solo debiti leggere cosa scrive il giornale stamattina sull'Inter non so qui a mettere ancora il dito nella piaga e a dirvi dei debiti un miliardo e due leggete cosa dicono non è possibile andare avanti così basta ma cosa vuoi rifinanziare lo scooter ciao Inter ciao